Molti agricoltori in questo periodo hanno riscontrato dei problemi di siccità, è un problema veramente esistente o dipende anche dalla modalità di agricoltura che si adotta? Allora, è un problema veramente esistente perché noi adesso, è arrivata un mese prima questa siccità, le piante le verranno a gravare anche dopo tre mesi, così i risultati li vediamo anche quest'inverno, la prossima estate, se hanno dei patimenti le piante. È un problema reale perché vediamo che le piante si ammosciano, la frutta non riesce a crescere, ti porta anche un problema nella potatura dell'anno dopo perché non caccia bene i getti buoni, quindi devi sempre ritornare indietro e vedere bene dove potare. Causa anche delle poche piogge che ha fatto quest'inverno, quindi le riserve idriche, poi dopo le ha fatte un pochino di piogge ma non bastano. Quindi voi avete adottato un sistema innovativo, sostenibile di agricoltura proprio per evitare queste situazioni simili? Sì, un sistema innovativo che abbiamo studiato anche con l'Università di Perugia, con l'Università di Ancona, tutti insieme, dove andiamo a risparmiare l'acqua, andandola localizzata con gli impianti a goccia, gli impianti di microvisazione dell'acqua. Per poche spreco diamo 6 litri d'acqua al giorno a pianta, se ce l'abbiamo, se ce la facciamo. Oltre a questo problema c'è anche il problema del rincaro dei prezzi per il carburante, ma anche per i concimi, è un problema che avete vissuto sulla vostra pelle? Lo viviamo tutti i giorni, lo viviamo sia nel quotidiano, con il rincaro per le auto, ma noi lo viviamo anche per il trasporto delle pesche giù nei supermercati, i vari posti. Comunque ci incide parecchio al giornalmente il consumo. Poi non parliamo dei fertilizzanti che quelli costano un occhio dalla testa, adesso proprio con questi rincari e noi comunque dovremmo dargli la stessa cosa da mangiare alle piante, non possiamo andare a dar di meno, quindi abbiamo un costo molto più alto. Ci potrebbero essere in futuro delle soluzioni migliori per cercare di sfruttare l'acqua piovana? Sì, ci potrebbero essere, che è la pulizia della diga e poi anche quando arriviamo a un certo punto di consumo d'acqua e viene tolta solamente alle aziende agricole, pensiamo almeno che sia giusto che venga razionata sia per i comuni che la vanno a prendere e sia per gli agricoltori, un razionamento per tutti, in base almeno abbiamo l'agricoltura all'acqua per tutta l'estate perché come dicevamo prima, la pianta ha bisogno di tutti i giorni di un po' di acqua. Noi siamo sempre fiduciosi del lavoro, poi che sia sempre più difficile climaticamente parlando è così, dopo ci mettiamo in caro prezzi, guerra, tutte queste cose qua, è sempre più difficile. Quello della siccità non è un problema solamente che riguarda la salute del frutto e del raccolto ma anche un problema che si estende sulla salute degli insetti e delle api in particolar modo. Certo, si estende anche sulle api perché se noi non innaffiamo ed è tutto asciutto vicino, loro non riescono ad andare a bere, anche loro bevono l'acqua. Noi abbiamo delle ciotole vicino dove le riforniamo un po' d'acqua ma non bastano. Se invece noi con l'irrigazione sotto chioma rimane un po' umida la terra, loro vanno a prendersi l'acqua anche lì.